Al di là del grande successo rivendicato dal Comune dell'Aquila in occasione del primo venerdì delle famiglie, con un'isola pedonale che ha attirato tante persone in un centro storico arricchito da spettacoli di animazione e negozi aperti fino a tardi, i commercianti del centro criticano l'amministrazione comunale. Se è vero che la pedonalizzazione del centro, uno dei cavalli di battaglia dell'amministrazione Biondi, dovrà essere estesa fino a settembre, per i commercianti non esistono ancora azioni concrete che possano agevolare il progetto. Dopo il Consiglio Comunale straordinario di un mese fa, dedicato ai problemi che ogni giorno vivono i commercianti, nulla è stato sinora attuato, di quanto venne stabilito allora e sottoscritto in un documento condiviso. Nel mirino dei commercianti è soprattutto l'assessora alla viabilità, Carla Mannetti, criticata per la mancata realizzazione dei parcheggi, tante volte promessi, necessari non soltanto per i clienti, ma anche per i lavoratori. A denunciare lo stallo del dialogo con l'amministrazione è Ugo Mastropietro, presidente del Comitato dei Commercianti del centro storico. Parecchie cose non sono state fatte di quelle nominate, anzi, devo dire nessuna. Per cui oggi abbiamo una grossa riunione con tutti i commercianti del centro storico, ci riuniamo, innanzitutto concertazione, quindi realizzazione di una consulta, realizzare una consulta dove comunque i commercianti potevano dire la loro, e poi da questo poter colloquiare con la politica, la più alta politica, per poter decidere insieme le situazioni da adottare per poter andare avanti. Abbiamo chiesto dei parcheggi, dei parcheggi innanzitutto, abbiamo fatto il primo passo noi, abbiamo detto siamo noi i primi a voler parcheggiare fuori le mura, dotateci di navette che possano farci raggiungere il centro storico e questa cosa a distanza di un mese non è stata fatta nulla. Abbiamo chiesto di togliere le macchine degli operai, perché comunque occupano diversi posti macchina, e neanche questo è stato fatto nulla. Abbiamo chiesto la realizzazione di parcheggi, ripeto, anche navette che abbiano degli orari consoni affinché noi commercianti la possiamo prendere, rientrà la sera dopo aver chiuso, e anche questo non è stato fatto.